La Banca of England ha tagliato le stime di crescita e rivisto al ribasso le aspettative sull'inflazione. Nel bollettino mensile la Banca Centrale di Sua Maestà afferma che la crescita sarà di circa il 2% in due anni contro il 2,5% previsto lo scorso maggio. I prezzi al consumo cresceranno invece dell'1,6% contro il 2% stimato il mese scorso. Secondo il governatore dell'Istituto, Mervyn King, l'economia britannica è ancora malata. Molte condizioni per la ripresa sono messe in opera e il comitato monetario farà tutto quanto è necessario in modo che la ripresa diventi una realtà. L'outlook per la crescita del Regno Unito rimane insolitamente incerto, scrive il bollettino, in cui si legge anche che la più grande minaccia alla ripresa deriva dal rischio che una risposta politica efficace non è stata implementata in modo sufficientemente tempestivo nell'area della moneta unica europea, l'euro.